Hanno scelto Fano e la casa della musica e della tecnologia per riunirsi e comporre le basi del loro nuovo lavoro musicale sono i 24 hours storica rock band psichedelico progressiva che dopo il successo di left to live concept album a tematica essenzialmente di tipo sociale uscito nel 2016 e ottenendo un grande successo sia di pubblico che di critica si sono messi al lavoro per comporre i brani del sesto disco e noi siamo un gruppo che ha sempre avuto molteplici influenze ma più che altro singolarmente abbiamo molteplici ascolti siamo un gruppo di stampo essenzialmente progressive psichedelico che suonare in italia rock è una cosa ormai da come si dice da da pazzi furiosi è stata una roba veramente molto difficile e quindi però noi andiamo avanti imperterti sulla nostra strada non penso che a meno che non succeda qualcosa di grosso qualcuno ci possa fermare un'unione artistica nata ormai più di 30 anni fa era il 1985 infatti a Bari dove attualmente vive uno dei componenti della band Antonio Paparelli mentre a Fano vivono il pianista cantante Paolo Lippe e il bassiste Paolo Sorcinelli mentre Marco fratello di Paolo Lippe vive a Bergamo e proprio la loro dislocazione geografica sparsa per l'Italia rende molto difficili le reunion del gruppo che per questo devono avvenire spesso durante i periodi di vacanza come quello appena trascorso dunque siamo alla casa della musica perché perché ci hanno ospitati semplicemente sono stati di una gentilezza incredibile poi perché è una bellissima struttura è un posto molto affascinante e perché siamo venuti a conoscenza appunto che c'era questa possibilità abbiamo chiesto è stato veramente di una semplicità quasi disarmante ci siamo riuniti per dare seguito a questa questo lavoro che non sarà semplice perché quando si deve fare seguito a una cosa che ha avuto un notevole venuta bene anche dal punto di vista tecnico e ha avuto anche un riscontro si può rischiare di o di ripetersi in maniera sterile oppure anche di deludere chi le aspettative di chi ha ascoltato left to live una sorpresa infatti che tra le tante collaborazioni ormai collaudate come quella col chitarrista Giovanni Lombardi e la cantante Elena Lippe che si occupa anche dei testi vedrà la partecipazione del polistrumentista dei taxi du moon Blaine Renninger che per un periodo ha anche vissuto a Cagli partecipare alla realizzazione del disco e ciliegina sulla torta la cover di un brano dei primi Pink Floyd ancora segreto il titolo recentemente riesumato nella collezione di inediti Early Years e mai pubblicato negli album ufficiali dobbiamo ringraziare Paolo Casisa che è presidente appunto dell'associazione il comune di Fano che ci ha ospitato e che ci ha messo a disposizione questa bellissima stanza insonorizzata con tutti gli strumenti e grazie a tutti. Siamo molto contenti di aver ospitato i 24 Hours e sicuramente ci sarà una collaborazione stabile che apriremo. I 24 Hours sono uno dei gruppi esponenti di questo genere musicale degli anni 90 quindi grande soddisfazione e l'attività della Casa della Musica continua e speriamo di riuscire a trovare tantissime occasioni per divulgare la musica moderna di tutti i generi e di tutti gli stili. Grazie a tutti.